L'IRFIS, società in house della regione siciliana, in seguito all'accordo firmato dal suo presidente Giacomo Gargano e dall'assessore alle attività produttive Edita Maio, è stata incaricata di gestire il Fondo Ripresa Sicilia. Il fondo agevolativo è finalizzato alle concessioni di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di spesa nell'isola. Per l'attuazione della misura sono destinati 36 milioni di euro e l'asse di intervento è indirizzato alla realizzazione di investimenti che favoriscono l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la riconversione di siti produttivi. Sono previste agevolazioni tra finanziamento a tasso zero e a fondo perduto, sino al 75% dell'investimento per programmi di spesa tra 500 mila euro e 5 milioni. L'accordo, afferma l'assessore Tamaio, si inserisce in una rinnovata intesa con l'assessore all'economia Marco Falcone, che mira a rilanciare l'attività delle imprese siciliane attraverso iniziative studiate appositamente per il tessuto imprenditoriale locale, in particolare quello delle piccole e medie imprese, volte a incentivare progetti integrati di ricerca, innovazione, sviluppo della competitività e internazionalizzazione che, come sappiamo, costituiscono le principali leve sulle quali occorre puntare.